A Venafro una nuova iniziativa di Fratelli d'Italia. Questa mattina, a lungo corso molise, il banchetto informativo teso a far conoscere alla cittadinanza le principali proposte della piattaforma programmatica del partito di Giorgia Meloni. Non a caso la scelta della location dello stand, nel cuore del mercato, tra la gente, insieme ai rappresentanti locali, esponenti regionali e nazionali del partito. Tassa unica al 15% su quanto dichiarato in più rispetto al 2017, nessun limite all'uso del contante, dimezzamento dei costi di accoglienza, dei richiedenti asilo e raddoppio del fondo per i rimpatri. Asili nido gratis, aperti fino a tardi anche d'estate, raddoppio delle pensioni di invalidità. Queste le proposte sul tavolo a livello nazionale, senza dimenticare la specificità del molise. Il nostro programma è partire dalle risorse che noi abbiamo sul territorio, quindi agricoltura e turismo. Per quanto riguarda il nostro molise sono proprio l'asse portante dell'economia locale. Noi possiamo diventare veramente una regione benestante se riusciamo a sfruttare le nostre risorse. Tra le priorità della proposta programmatica di Fratelli d'Italia per il molise, il sostegno all'agricoltura con progetti che esaltino la biodiversità del territorio e la necessità di consorziarsi per incrementare i mercati di sbocco dei prodotti. Facciamo dei prodotti eccezionali, però non li riusciamo a vendere sul territorio perché sono prodotti di nicchia, non ci sono grosse quantità di prodotti da portare, da esportare. Allora si dovrebbe organizzare dei consorzi, dei consorzi in cui confluire questi prodotti, valorizzarli e portarli in sede dove c'è la richiesta di questi prodotti qua. Sì, noi siamo molto soddisfatti perché il neocircolo che ormai ha fatto un anno, abbiamo fatto un sacco di eventi, abbiamo donato un defibrillatore, abbiamo fatto delle petizioni di film per salvaguardare la sicurezza nel territorio nostro, nella città di Venafro. E sinceramente i frutti li abbiamo avuti perché nelle scorse elezioni politiche, sinceramente siamo molto soddisfatti perché abbiamo ricevuto 200 consensi solo nella città di Venafro e altrettanti nell'Interland Venafrano. Quindi noi con questo grosso risultato adesso andiamo a affrontare una campagna elettorale per le regionali. Grazie. Grazie. Grazie.